buongiorno mi chiamo francesco testa sono consigliere comunale di bra con delega specifica da parte del sindaco gianni fogliato alla cooperazione internazionale mi scuso per non essere presente in diretta a causa di motivi lavorativi vi raggiungo con questo breve messaggio in cui mi è stato chiesto di presentare quelle che sono state le esperienze del nostro comune nei rapporti con il benign l'amicizia tra bra e benign nasce attraverso una persona don max cirlafia che da paracù ha raggiunto nel 2005 la nostra città come vice parroco per completare la propria formazione e i propri studi teologici si è subito creato un rapporto di amicizia con lui e con la terra da cui proveniva e in particolare con quello che era un suo sogno realizzare nella periferia di paracù un centro di accoglienza per ragazzi impossibilitati ad andare a scuola impossibilitati per la loro sede di residenza a raggiungere delle sedi di istruzione questo progetto dal nome primavera africana è stato il primo grande contatto di amicizia tra bra e il benign e va avanti ancora oggi perché il sacerdote risiede ancora in benign e rientrato nella sua terra di origine ma i rapporti con la nostra città sono sono solidi e continuano le raccolte di fondi e i progetti di amicizia con questa con questa sua realtà ho avuto modo di visitare la casa da lui è realizzata una casa di accoglienza nel periferia di paracù in corrispondenza di una scuola all'interno di questa casa vengono accolti bambini che per loro sede di abitazione si troverebbero troppo lontani da edifici scolastici per avere una formazione continua questo ha fatto sì che nel corso degli anni ormai centinaia di bambini in età scolastica abbiano potuto quantomeno completare la propria formazione primaria in realtà il motivo per cui io sono stato fisicamente in benin non è stato legato direttamente a primavera africana ma ad un progetto successivo avviato dal nostro comune in collaborazione con la realtà nata all'interno di bramo ormai a livello internazionale rappresentata da slow food a partire dal 2018 è stato avviato grazie ai finanziamenti regionali per la cooperazione con l'africa subsahariana un progetto di amicizia tra bra e slow food insieme per un avvenire sostenibile in benigno un progetto da radicarsi nell'area della municipalità di paracù di una durata di 18 mesi che ai noi purtroppo si è poi scontrato con la realtà del covid con l'obiettivo generale leggo dalla scheda di progetto dei tempi di promuovere uno sviluppo locale sostenibile in grado di proteggere la biodiversità locale dell'area di paracù attraverso l'implementazione di pratiche agri ecologiche come gli orti slow food in quel periodo uno dei grandi obiettivi dell'organizzazione fondata da carlo petrini era l'impianto di mille orti in africa diventati poi 10.000 orti in africa dove insegnare un'ecologia buona pulita e giusta un'agricoltura buona pulita e giusta bra ha sposato questo progetto in particolare ha cercato di realizzarlo proprio nella zona di paracù per i legami di amicizia già ottenuti con con questa città questo avrebbe comunque permesso e ha permesso di rafforzare alcune l'identità di alcune comunità comunità locali dove questi orti sono stati realizzati fornendo del materiale ma fornendo soprattutto la tecnologia pratica quindi la 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 capacità tecnica di coltivarli e di mantenerli in modo sostenibile questi dieci orti realizzati nella nella città sono stati distribuiti in diverse realtà uno è stato realizzato proprio nella casa di primavera africana di cui parlavo prima gli altri sono stati realizzati in diversi quartieri alcuni sono stati realizzati all'interno di strutture scolastiche nei giorni della mia permanenza a paracù poco prima del lockdown del 2020 occasioni in cui c'è stato il convegno nazionale di slow food benin e occasione che è servita anche per presentare ai cittadini beninesi legati al movimento di slow food quello che era l'obiettivo in corso a livello della della città di paracù ho avuto modo di osservare e di vedere quello che era era stato fatto iniziative lodevoli perché volendone citare tre una è stata realizzata in un territorio tutto sommato molto simile al nostro ambiente cuneese i campi all'interno e immediatamente all'esterno della struttura di accoglienza primavera africana siccome sono stati realizzati da maestranze volontarie italiane arrivate in passato a paracù al seguito di max cirlafia hanno l'aspetto di quelli che sono i nostri orti e hanno una produttività grazie anche a un pozzo che è stato realizzato ai tempi pari a quella dei nostri orti che possiamo realizzare nelle nostre nelle nostre aree quindi questo è un orto estremamente simile ad un stato nord estremamente simile a un orto italiano ma non c'è soltanto questa realtà ci sono state anche almeno due occasioni di realizzazione in un orto che ho avuto modo di vedere all'interno dei quartieri periferici di paracù in alcune comunità locali in particolare quello che mi ha colpito maggiormente è stato quello gestito da un'intera comunità femminile chiamato amichevolmente da noi che l'abbiamo visto l'orto delle donne è stata veramente la dimostrazione che se le donne prendono la guida di una realtà economico sociale si possono ottenere grandi cose una distesa enorme di terra strappata al gerbido coltiva divisa in tavolati coltivata ed operata con beneficio per tutto quanto il quartiere e con la creazione di una piccola economia agricola in quella zona l'esperienza più importante quella che avrebbe dovuto continuare in quello che poi purtroppo è stato il lockdown e che quindi purtroppo è stata zoppata è stata l'esperienza dell'orto nelle scuole ho avuto occasione di visitare una delle scuole dove già erano stati avviati questi progetti ma dove presto si sarebbe realizzato un orto in maniera definitiva e si era sognato di creare un gemellaggio con gli orti didattici delle nostre scuole di bra è stato possibile in un'occasione quasi commovente realizzare al volo tramite mezzi semplici ovvero una videochiamata whatsapp un ideale gemellaggio tra una scuola di paracù e una scuola della città di bra con i bambini che alla stessa ora facevano l'intervallo da una parte in ciabatte e pantaloncini dall'altra parte eravamo a gennaio con berrette e cappelli sciarpe e giacconi era stata un'occasione molto toccante di confronto per quanto improvvisata ma sicuramente estremamente genuina che aveva avviato immediatamente l'idea di creare una sorta di gemellaggio a distanza di collaborazione di scambio di disegni di materiale ma anche di scambio di rispettive conoscenze per quanto si tratti di scuola elementare a livello dell'orto della campagna della piccola agricoltura purtroppo è arrivato il covid e ha zoppato tutte le relazioni ricordiamoci che nel 2020 le scuole sono state chiuse a metà febbraio a fine febbraio ed allora non si sono più riaperte purtroppo tutti i progetti hanno un vincolo temporale lievemente posticipato dal covid ma purtroppo non si è più stati nelle tempistiche utili per concludere questo questo percorso il sogno di ricostruire un legame c'è se sarà possibile nei prossimi anni nei prossimi mesi si cercherà di farlo due anni fa si sperava di riuscire ad avere anche un contatto umano di restituzione nell'ambito di terra madre quindi ospitare nella nostra città alcune persone provenienti da paracuo comunque dal benigni in maniera tale da creare un incontro fisico tra la realtà piemontese e la realtà beninese questo purtroppo due anni fa non è stato possibile attualmente la ripresa che c'è stata bellissima in torino di terra madre ammirato altrove perché bisognava tornare a un qualcosa che non non c'era più stato per parecchio tempo chissà se un giorno ci si potrà rimettere di buona voglia e cercare di nuovo di avere un una risposta positiva in questa direzione io vi ringrazio per l'attenzione mi scuso di essermi dilungato appena oltre il tempo che mi era stato concesso e auguro a tutti quanti buon lavoro grazie a rivederci